Salve, sono Maria Fisicaro, faccio parte del coordinamento salute mentale utenti. Rilasciamo questa intervista per mettere a conoscenza di coloro che visiteranno il sito che anche in Sicilia sta per arrivare il messaggio di mettere in risalto la voce degli utenti. Lo scopo è quello di sensibilizzare il territorio e motivare gli utenti, abbattendo lo stigma per la salute mentale. I progetti che stiamo attuando sono volti a tutti gli utenti che hanno un disagio psilico. Creare un'associazione al loro favore è trasmettendo il messaggio che nella vita c'è oltre la malattia mentale. Tutti coloro che sono interessati possono rivolgersi alla nostra pagina Facebook e ai contatti che vedete. Io sono Marci Francesco, sono un ospite della cooperativa sociale Insieme, gestita da Silvana Lamedola. Mi ricollego a quello che diceva la collega, noi stiamo cercando di fondare un'associazione dove cerchiamo di sensibilizzare attraverso il nostro lavoro e il territorio alle esigenze degli utenti della psichiatria. Troppo spesso il servizio psichiatrico sembra non mettersi in ascolto con le diverse esigenze, bisogni e richieste degli utenti, formendo delle risposte scassamente personalizzate.